Hai sentito cosa hanno fatto sti sporcaccioni di francesi? So tutti una razza di miscredenti e senza Dio! Un ufficiale francese in casa nostra! Ma tu te devi essere impazzito! Ma che adesso te la fai pure con i francesi, li possino, i nemici di Dio! E questa è la maniera di trattare gli ospiti. Prima di tutto i francesi non sono degli ospiti, ma degli invasori. E tu dovresti saperlo meglio di tutti. E perciò sono tutti scomunicati. E sbucciami sta mela!